guardate un po il ginepro come da certe bacche rosse ora sono tutti uguali i ginepri qua ne stanno 4 o 5 varietà questo qui invece ha delle bacche veramente molto grandi allora tra questo e questo se lo trovano vicino vedi eppure sono due varietà di ginepro questo è più basso questo è più alto guardate la punta qui guardate la con questa qui anzi vi faccio vedere una cosa io accosto guardate accostiamo le pocce vedete eccole qui infatti un raffronto sono due varietà di ginepro uno diverso dagli altri comunque produce bacche veramente belle guardate quando sono belle le bacche sono enormi ci troviamo sul montepenna poi le bacche queste vengono usate anche in erboristeria sì c'è un sapore aromatico veramente forte ecco leggermente non è che piova pensate noi sì c'è un sapore sì c'è un sapore sì c'è un sapore Grazie.